Nel 2011 Asonext ha incrementato la gamma di prodotti rifusi grazie alla messa in opera di un impianto SR per la produzione di lingotti rifusi sotto scoria. La flessibilità del nostro impianto dotato di una lingottiera mobile ci consente di accontentare gran parte delle richieste in ordine di sezione e peso dei nostri clienti. Con il nostro impianto siamo in grado di produrre lingotti diametro 1000, diametro 1200 e diametro 1600 con la possibilità di arrivare fino a 2000 mm di diametro per un lingotto rifuso da oltre 150 tonnellate. Anche per le rifusioni SR vale il discorso fatto per il VAR. Per raggiungere uno stato inclusionale eccellente come richiesto dalle specifiche dei rifusi dobbiamo comunque partire da un prodotto iniziale estremamente pulito. Il lavoro di squadra intrapreso con l'acciaieria che ci fornisce il materiale da rifondere ci ha consentito di raggiungere quella over quality in grado di garantirci l'ingresso in mercati sempre più ambiti. Con l'impianto SR Asonext è entrata prepotentemente nel settore degli acciai per stampi, nel settore degli acciai per energia e negli ultimi anni nella produzione di materiale del settore eolico guardando con gran interesse il campo degli acciai inossidabili.